Ciao, sono Alessandro Capelli, delegato del sindaco ai giovani di Milano. Io vi invito venerdì, sabato e domenica alla fabbrica del vapore, perché dobbiamo incalzare l'amministrazione. È il momento di realizzare la Milano dei giovani e lo faremo venerdì con tutte le ragazze e ragazzi che vogliono raccontare la Milano che vogliono. Sono Alessandro Rosina, professore di demografia e statistica sociale dell'Università Cattolica di Milano. Coinvolge direttamente le energie e le intelligenze delle nuove generazioni e mettele al servizio di politiche non solo per i giovani, ma anche per il cambiamento e la crescita del territorio del paese. Ciao, sono Luca Guglini, consigliere comunale di Milano. Questo forum delle politiche giovanili, o Mi Generation Camp, è il momento per cui tiriamo finalmente un po' di somme su quello che è stato fatto, o perché no, quello che non è ancora stato fatto sul Comune di Milano, ma soprattutto sarà il momento per rilanciare le politiche giovanili del Comune di Milano. Ogni singola intelligenza ci servirà come ossigeno per una nuova stagione. La tua partecipazione ci è indispensabile. La tua partecipazione ci servirà come ossigeno per una nuova stagione.